Non è ancora finita, nel fine settimana tornerà la neve a bassa quota. Sono queste le previsioni del Consorzio Lamma, neve che potrebbe rendere ancora più critica la situazione nelle montagne toscane, dove i fiocchi in pratica cadono ininterrottamente dall'inizio del nuovo anno. Una nevicata come non si vedeva da decenni. A Zumzeri, la stazione invernale della Lunigiana, sono stati raggiunti 3 metri di neve, altezze simili a quelle della Betone, dove si continua a lavorare per garantire la viabilità tra i vari nuclei abitati della montagna Pistoiese. Ancor più critica la situazione in Garfagnana, dove la protezione civile ha chiesto l'intervento dell'esercito. Solo con le nostre forze e quelle dei volontari non possiamo farcela, dicono dalla Centrale Operativa della Protezione Civile della Garfagnana. Il governatore Eugenio Gianni, dopo aver trascorso l'epifania nei luoghi più colpiti dalla nevicata, ha confermato che sono state avviate le procedure per dichiarare lo stato di emergenza regionale, affinché siano previsti risarcimento dei danni eventualmente subiti dalle popolazioni e dai territori.